Sono terminati i lavori per l'ampliamento del parcheggio del CMP. Questa mattina, alla presenza del sindaco Michele De Pascale, del direttore generale dell'ASL Romagna Tiziano Carradori, del direttore del distritto di Ravenna Roberta Mazzoni e dell'ingegner Francesca Luzzi dell'ufficio tecnico dell'ASL, sono stati aperti i cancelli del nuovo parcheggio che potrà ospitare fino a 216 auto. L'ASL ha deciso di fare questo investimento per mettere a disposizione di chi deve recarsi a fare una visita a un esame un maggior numero di postazioni dove parcheggiare, senza creare traffico davanti alla struttura. I posti auto prima dei lavori erano circa 300, di cui una parte destinata al personale dell'ASL, ma non erano sufficienti rispetto al numero di persone che giornalmente si reca al CMP, che ospita un numero elevato di servizi. La data della fine dei lavori era stata inizialmente fissata per il mese di maggio 2020, ma l'emergenza coronavirus ha fatto slittare il completamento del progetto. Oggi inaugura questa nuova parte del parcheggio del CMP, quali sono le novità, quanti posti sono stati aggiunti e come è stato organizzato? È uno primo stralcio di un parcheggio molto più grande che è di totale 400 posti auto, questi sono circa 200 posti, 216, di cui una parte sono riservati alle auto aziendali, una parte invece circa 50 alle auto aziendali, l'altra parte invece è libero per gli utenti o i dipendenti, quindi non ha limitazioni di accesso. Di questi 50 posti riservati all'auto aziendale, 20 sono riservati per le auto elettriche aziendali che acquisteremo a breve. Poi c'è da dire che anche tutto il parcheggio è stato illuminato con delle pali a LED, come ormai è consuetudine nella buona norma delle aziende che vogliono adottare il risparmio energetico e queste colonnine sono sempre in questa scia dell'azienda US della Romagna che percorre questi intenti di risparmio energetico. Quali problematiche risolverà l'ampliamento del parcheggio qui al CMP? L'ampliamento del parcheggio del CMP è un investimento molto molto atteso, in realtà era addirittura previsto quando il CMP è stato realizzato, ormai molti anni fa. Sappiamo che l'area del parcheggio del CMP è un'area molto congestionata, soprattutto nelle ore della mattina, un'utenza spesso fragile e quindi l'ampliare il parcheggio diventa una soluzione logisticamente molto molto più comoda per tutti quei cittadini che si devono rivolgere a un presidio fondamentale della sanità territoriale del Comune di Ravenna.